Ciao, oggi vi voglio parlare della processionaria, che sono quegli animaletti che camminano uno dietro l'altro in fila, tutti pelosi. Sono marroncini e neri. Li potete vedere sui pinile, noccioli, castagni, su vari alberi. Sono quei tondi di la loro tana, diciamo, fatta tipo ragnatela bianca, la vedete sugli alberi. È molto pericolosa per noi e per i nostri cani. A ottobre bisognerebbe riuscire a toglierle e comunque potete anche rivolgervi al comune perché è obbligato a toglierle, se l'albero non è a casa vostra. Quindi è una cosa che dovete stare molto attenti. Adesso è il periodo che ai piccoli sono usciti e quindi camminano in fila o si possono trovare anche non tante file ma anche due o tre. Perché sono pericolose? Perché questi peli sono urticanti. Quindi anche per noi se ce ne troviamo uno sulla spalla o qualcosa del genere, poi magari ci tocchiamo gli occhi, siamo veramente in pericolo, possiamo rischiare di perdere un occhio. Così per il nostro cane invece è letteralmente veramente molto pericoloso, non letale. Perché se il nostro cane lecca la processionaria andrà in necrosi la lingua, quindi tutta la porzione di lingua dove i peli urticanti della processionaria sono arrivati, il cane perde la lingua, quindi diventerà tutta necrotica, nera ed è un serio pericolo per un cane. Se addirittura la dovesse ingoiare saremo veramente in grave pericolo di vita. Pochi cani si salvano. Anche un mio allievo, Jack Russell, ha leccato la processionaria, fortunatamente ha perso un pezzo di lingua e diciamo che sta bene. Una cosa che potete fare prima di arrivare dal veterinario, sicuramente sono un primo soccorso, voi lo dovete tutti magari avere con voi quando andate a fare le passeggiate o siete con un cane, uno zainetto dove tenete le varie cose che possono servire per un primo soccorso per un cane. Quindi con dell'acqua bicarbonato, una siringa naturalmente senza lago, spruzzata a scendere, diciamo non a salire verso la bocca, ma questa è la lingua e questo è il muso del cane, quindi la siringa buttata da questo lato che va in fuori per evitare che possano andare ulteriormente internamente i peli urticanti. Quindi con questa acqua bicarbonata, comunque rivolgetevi subito al veterinario, dovete andare immediatamente, comunque se vedete questi bozzoli tutti, evitate di andare in queste zone. Mi raccomando, è molto pericolosa, prevenire è meglio di curare. Ciao ragazzi, alla prossima!